Claudio Pazzaglia, direttore CNA Bologna, questa mattina CNA ha donato dei PC a Opim Onlus. La CNA collabora da vari anni con la fondazione Opim, è un incontro che ha messo insieme una serie di sinergie dal mondo di CNA pensionati al mondo della solidarietà, ma anche una solidarietà che fattiva nel senso la ricerca di commesse di lavoro, gli anziani pensionati che insegnano ai lavoratori di Opim alcune manualità, insomma un percorso molto interessante e anche pieno di cose concrete. Oggi abbiamo raggiunto un'ulteriore opportunità che grazie a CNA Impresa Sensibile, grazie a CNA Pensionati, ci ha permesso di dirottare delle risorse importanti verso l'Opim con una donazione di personal computer che tramite la nostra società collegata a CEDAB abbiamo fornito all'Opim gratuitamente per fare in modo che gli operatori di Opim, che sono tutte persone che hanno un'abilità differente da noi e hanno bisogno anche di evolversi, utilizzeranno questi strumenti per imparare a fare la contabilità, per imparare a presentare un proprio curriculum e quindi diamo una mano a evolvere anche la solidarietà in una cosa concreta che permetta a questi lavoratori di rimanere sul mercato anche in questa fase difficile. Grazie.